Orari quando un meccanico del team Abicardion di Karel Abram corre verso il box senza avvedersi dell'arrivo di Mattia Pasini Mattia vola per terra, la moto decelera in pochissimo tempo, da una gran zuccata per terra davanti al box Ducati guardate la moto intanto è là in fondo, ha rischiato davvero di infilarsi dentro uno dei due box della Ducati Mattia viene soccorso, quello che arriva poi è il meccanico che ha avuto il contatto con Mattia è stato poi trasportato all'ospedale perché era in lieve, è stato confusionale, non ricordava di chiamarsi Mattia di nome Pasini di cognome, fortunatamente gli accertamenti hanno dato esito negativo, Mattia è tornato qua dicendo non è un problema, una botta alla testa, io la testa ce l'ho rotta sin da quando ero piccolo, questo è stato un polo